Bentornati su MyFootballJersey. Vi mostro oggi una maglia che avevamo già visto in versione player, la trovate qui in altro. Questa è la prima maglia del Tottenham in versione fan. Grazie a tutti. La maglia non è niente male. Il costo lo vedete qui sopra, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Questo era un nuovo fornitore che provavo, devo dirvi che sono rimasto molto contento, qualità ottima e tempi di spedizione velocissimi. Questa è arrivata in 15 giorni. Trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché c'è un link per ottenere un coupon da 5 dollari, inoltre c'è anche un coupon per avere un ulteriore sconto del 10%. Vi lascio ora alla parte finale. Prima però iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla farlo, ma ci permette di mostrarvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN! Forنا! Forata! Forata! Per fare! Forata! 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 Grazie per la visione!